cito ti devo parlare ciro 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 che volevo dare un consiglio cosa è meglio se ti compri quella bluetooth le cuffie sono pure più comodo e tu mi scasso cazzo e fammi ricerci strunzata ma t'affana cagato io ma fammi un cammino che si sceglie che cazzetta ripetilo si tiene paura forza mi stai riscando assai di no assai lì c'è nata paroletta a ciro 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 No, 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 no.